Ezia 2 Inter 1 nel post partita le pagelle dei tifosi in una serata veramente nera dove dare i voti non sarà semplice siamo come sempre nella diretta insieme alla community di Passione Inter andiamo a dare i voti ai giocatori dell'Inter scesi in campo stasera lo facciamo con il nostro tier maker dove vi chiedo giustamente la domanda in chat è quella di dare voti sinceri o voti legati al risultato finale io sarei sempre per dare i voti sinceri ovviamente con però oggi comunque una riequilibratura leggermente verso il basso perché il risultato è abbastanza abbastanza pesante abbastanza grave MVP il migliore in campo o in questo caso quello che salviamo top per quelli andati bene ok per le sufficienze rimandati quelli che vanno sotto la sufficienza e flop per quelli ampiamente insufficienti vale partiamo subito da Andanovic ti coinvolgo subito ti provoco subito per me oggi sarebbe da flop ma non è colpa sua del tutto nel senso colpa per me di chi lo manda in campo te lo dico proprio in maniera dura io ti direi senza voto perché non gli vedo gol non hanno mai tirato in porta sul rigore sul rigore per me cioè gli do rimandato magari perché sul primo gol non ha molte colpe sul rigore ci sta che prendi gol sul calcio di rigore però cavolo cioè ha staccato così è ma a momenti da prendere perché sai quando sul rigore secondo me quando parti con un'idea su dove arriva la palla tu vai cioè lui è andato per l'angolo basso sai lì sono scelta guarda non è quello che fa la differenza poi per carità non so io ho negli occhi dall'altra parte drongovski che mi pare un rigore per me leggermente meno parabile di quello di insola non mi ricordo chi diceva rigore mezzo altezza rigore parato sì effettivamente anche quello di insola era mezzo altezza quello è vero sicuramente non lo so non vedo un massacro come ho letto anche da altre parti su andano no no quello no quello no anche perché non ha di fatto non è stato mai impegnato ha fatto un'uscita anzi aspetta ha fatto due uscite dove ho tremato una su un pallone che stava andando fuori dall'area di rigore che non ci arriva allora la mette in fallo laterale e un'altra di testa fuori area dove non ho capito il senso della sua uscita non lo so per me a livello di certezze qualcosina ha tolto per cui dai almeno rimandato secondo me sulla difesa invece d'ambrosio forse è uno dei pochissimi che promuoviamo uno dei pochi che promuoviamo comunque me nel primo tempo soprattutto è sembrato tra i migliori poi ha delle responsabilità sul gol di Maldini perché non ho capito bene quando si stacca su un zola si perde Maldini però lì eravamo troppo sbilanciati però lì secondo me lui va a chiudere su un zola perché forse aveva quasi se non va a chiudere tira in porta anzolà sì 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 infatti per cui nel senso va vai su quello quando l'attaccante salta il primo difensore tu sei in mezzo decidi se andare a chiudere sul su chi ha la palla o coprire l'altro se alla fine sei su due contro uno però nel primo tempo ha spinto tanto per quello secondo me ha giocato bene cioè guarda non mi viene neanche da dirgli la la colpa sul gol perché no infatti comunque va a cercare di chiudere l'errore di acervi sì 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 l'errore infatti io lì lo do di più ad acervi sicuramente guarda forse lo metterei MVP perché pensando rapidamente mi sembra l'unico che che salvo un po' di più stasera primo tempo l'ho fatto l'ho fatto molto bene no cioè ha comunque ha nel primo tempo si è capito perché inzaghi l'ha fatto giocare che cosa voleva inzaghi da dall'ambrosio e l'ha fatto ovvero creare superiorità sugli esterni no ripeto giocatore che non ho trovato il senso di schierarlo anche oggi però lo metto l'unico che si salva che vuol dire sei per me sei più forse a cerbi stasera purtroppo mi verrebbe da dire quasi flop sinceramente perché il duello con zola lo ha perso nettamente nelle due sole l'errore è pesante vediamo la chat sono sono due partite tra primo tempo e secondo tempo per tutti infatti per quello è difficilissimo dare dare i voti a cerbi flop purtroppo anche per me perché l'errore è molto pesante poi ho provato a spingersi un pochino davanti ma non è azzeccata non è azzeccata ragazzi mvp non significa che d'ambrosio prende otto significa sei però è per metterlo come quello che si salva se preferite che lo mettiamo negli ok ma è puramente a livello grafica il posizionamento e dai veloci con con gli altri bastoni bastoni l'ho visto anche lui partita molto molto variabile mi è sembrato un po' incerto un po' insicuro e lo vedo rimandato anche perché sul gol non ho capito bene dove eravamo tutti sbilanciati anche per i dettami di inzaghi io non so se era su un calcio d'angolo non so se era un calcio d'angolo o meno non mi ricordo è come è nato un rinvio no un rinvio di drongovski cioè dal rinvio del portiere romoli sbilanciati in avanti si eri due contro uno praticamente e poi è arrivato maldini farsi segnare da maldini ragazzi quindi rimandato rimandato dai secondo io sono d'accordo con ben sambà mi sa che deve fare un un po un bagno d'umiltà un attimino e risettarsi con più con più concentrazione ma lui ma vale anche per tanti altri a darmian possiamo dare la sufficienza dai secondo me vale dai ci sta darmian e forse poteva puntare un pochino di più ghiasi che era stato ammonito all'inizio però se lo merita se lo merita l'ok barella barella anche lui in alcuni momenti magari se la sente un calda però quando esce lui l'inter perde tantissimo per cui per me il mio voto è più in funzione di quello che si perde quindi per me anche lui è da ok flop assoluto in chat occhio flop assoluto 5 e mezzo rimandato barella ok ok costante c'è molta divisione si va dal 6 a un flop assoluto e tanti 5 e mezzo ma io nel senso noi stasera abbiamo perso e il risultato influisce però il voto va data su tutta la partita a un giocatore a prescindere da chi sia poi il risultato pesa però da dare flop assoluto non mi ricordo errori di barella che ha mandato in porta gli avversari o io me lo ricordo abbastanza dentro non l'ho visto incisivo negli ultimi metri sicuramente cosa che da lui mi aspetto di più però io secondo me la partita di barella è sempre giudicabile in diciamo per differenza cioè uscito lui abbiamo perso molto a centrocampo e la differenza si è vista poi è uscito al 66esimo circa 65esimo e da lì l'inter è sparita completamente a livello di produzione offensiva comunque o comunque non è stata mai non è stata più più pericolosa quindi per me l'ok l'ok ci sta almeno per l'applicazione brosovic lo metto leggermente sotto per chi ha giocato di più ed è stato dentro anche nei minuti finali ha fatto all'inizio delle cose buone era partito bene brosovic mi stava piacendo ha fatto un recupero offensivo e ha mandato in porta l'inter nei primi minuti e mi era piaciuto molto però poi non l'ho più visto tantissimo per me da rimandato sì sarebbe da 5 e mezzo esatto poco sotto la sufficienza vedo la chat lo stesso attorno a questo voto mkhitaryan siamo lì più o meno come valutazione forse forse l'ho visto un po più vivo di brosovic a livello di di partecipazione sì diciamo che secondo me si potrebbe riassumere tutti quasi tutti tra il 5 e sul 5 e mezzo non si discostano di tanto ma quasi tutti sì mkhitaryan ci ha avuto un buon tiro non lo so forse tra i tre sono molto indeciso sì forse a quello che ha giocato non lo so non si è visto tanto stasera è davvero difficile non lo so forse un ok lì glielo metto un ok lì glielo metto a mkhitaryan e gosens a sinistra oggi leggero passo indietro rispetto alle precedenti due partite in cui è stato migliore in campo consecutivamente ma io io la sufficienza soprattutto dal punto di vista dei anche dei contrasti dell'impegno non sei secondo me se lo se lo merito sì secondo me stiamo ritrovando il vero il vero gosens magari ancora dal punto di vista offensivo non come quello dell'atalanta però fisicamente sul sul lottare sui contrasti c'è anche più sicuro quindi da dire non lo metto migliore solo perché lui ha avuto un'occasione clamorosa non ha colpito il pallone in area di rigore quello lì no diciamo che era notizia incoraggianti il fatto che io penso che lui stia diventando il titolare dell'inter perché di marco con tutto il rispetto per me non può essere alla lunga il titolare andiamo sugli attaccanti attaccanti Lautaro martinez purtroppo flop assoluto qui non sento proprio non sento ragione ma al di là del rigore troppe occasioni sbagliate e dal centro avanti titolare dell'inter almeno due ti dico non almeno uno di questi medi aspetto in gol ecco la chat le vedo tutti sul flop totale e Lukaku siamo un pochino sopra che dici vale sì diciamo che anche lì è il problema è sempre quello dei due tempi diciamo così perché comunque nel primo tempo Lautaro è stato egoista soprattutto in quell'occasione di contropiede e su un altro tiro poteva angolarla meglio quello sicuramente lasciando stare a parte il rigore che quello pesa effettivamente Lukaku nel primo tempo ha giocato tanto di squadra ha fatto tante sponde comunque nel secondo tempo effettivamente si è visto poco quello sì mi aspettavo che prendesse di più in mano la squadra ecco nel secondo tempo anch'io 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 lo metto lo metto sopra perché segna comunque ha provato a fare il suo però anche tanti errori non lo so qualche a livello di gioco di squadra qualcosa ha fatto però io cioè me lo aspetto da un attaccante ripeto mi aspetto di più mi aspetto di più quindi per me va lì no Lautaro è stato il più pericoloso è il problema può è che non devi essere il più pericoloso devi essere il più preciso quindi le occasioni sono state create di squadra e l'ha fallita il singolo purtroppo quindi incide questo secondo me io lo metto leggermente sopra flop assoluto dunfris per me inevitabilmente perché prende il calcio di rigore ok ma sbaglia tutto il resto e il rigore finale è veramente un'ingenuità clamorosa di marco lo stesso è entrato male secondo me tutti i palloni che ha toccato non ha messo un cross buono l'unico che l'ha messo sul secondo palo per dunfris quando abbiamo messo dentro tre torri anche anche gecko a centro area non è mai stato pescato praticamente non vorrei essere cattivo col flop quindi magari un rimandato però siamo siamo lì ciala forse anche anche di marco forse meriterebbe un flop per come è entrato ciala vale mi ha dato l'impressione di essere quello un po più elettrico tra i subentrati si è entrato ha provato subito quel tiro però poi anche lui forse era già comunque la squadra nella fase di di confusione non lo so comunque ha cercato di velocizzare un po di più il gioco quello sì gli do l'ok lo vedo anche dalla chat gecko non mi sono quasi accorto che del suo ingresso in campo diciamo almeno rimandato anche gecko carboni vabbè gli diamo senza voto anche se lui entra sempre con un buon spirito anche se ha poco tempo per per incidere in zaghi purtroppo flop senza senza alcun dubbio in questa in questa serata chiudiamo qui dai pagelle stasera difficilissime complicatissime anche perché ritoccate molto dal dall'umore in questo momento nei commenti fatevi sapere che cosa ne pensate se siete d'accordo potete partecipare come sempre post partita qui con noi per dare i vostri voti e per dire la vostra mi raccomando seguiteci in diretta dopo ogni partita per commentare e analizzare le partite insieme a noi grazie